Scaduti i termini per presentare le liste dei candidati alle prossime amministrative in Sicilia a Catania i candidati alla carica di sindaco sono ufficialmente Enrico Trantino, Maurizio Caserta, Gabriele Savoca, Giuseppe Lipara, Lanfranco Zappalai, Giuseppe Gioffrida. Si voterà il 28 e 29 maggio. Scandalo, sanità, i quattro indagati posta agli arresti domiciliari si sono avvalsi della facoltà di non rispondere al GIP Simona Ragazzi durante l'interrogatorio di garanzia. Secondo i legali di Pippa Arcidiano, L'Annunzio Ezio Campagna, Catino Ferlito e Antonio Missale da valutare con attenzione la voluminosa mola di documenti a supporto delle 1041 pagine dell'ordinanza del Tribunale di Catania. Spese e pazze all'Arsa arriva la condanna in appello a due anni e tre mesi per Salvo Pogliese accusato di peculato. L'ex sindaco di Catania per via della sentenza di primo grado era stato sospeso dalla carica per effetto della legge Severino. Dopo quattro anni dall'ultima edizione è tornata la partita del cuore, un gol per la solidarietà. Sugli spalti del Massimino presenti circa 15.000 spettatori, per lo più studenti. L'evento, organizzato da Luca Napoli, ha avuto come madrina Soel Sorge. Tutte le notizie su freepressonline.it, il prossimo notiziario domani alle 20 e 30.